Saranno i nonni materni a prendersi cura della tredicenne, figlia di Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli, la coppia di Agropoli scomparsa drammaticamente in quello che appare essere un omicidio-suicidio. Sono stati nominati legalmente sui tutori e ora proseguiranno a rivestire quel ruolo, a cui hanno comunque adempiuto sin da subito dopo la tragedia. Le indagini intanto vanno avanti. Si attende l'esito degli esami sui reperti rinvenuti sulla scena del delitto, dalle tracce ematiche alle armi alle impronte rinvenute, tutte sono ora al vaglio per chiarire più precisamente la dinamica di quanto accaduto nelle prime ore del 22 gennaio scorso e rispondere così ai diversi dubbi e ombre che comunque circondano ancora la vicenda. Da quanto è emerso fino ad ora non c'è nulla che faccia pensare alla presenza di terze persone nella casa della coppia dove si è consumato il duplice delitto. La lite, iniziata presumibilmente in cucina dove sono state rinvenute delle tracce di sangue, è proseguita poi nella cameretta della figlia che però dormiva nel letto matrimoniale. Ce ne vorrà ancora anche per le perizie autoptiche, sia quella disposta dalla procura, per cui saranno necessari 60 giorni, sia per quelle di parte. Dieci le coltellate inferte alla donna, di cui una fatale alla gola. Una sola, al collo invece per lui, che non sarebbe morto sul colpo. Da capire quale arma sia stata utilizzata sui corpi e chi abbia assestato la ferita mortale a Carnicelli. Nelle prossime settimane potrebbero emergere particolari importanti per chiarire l'accaduto.